C'è uno stile, rinchiudete l'esperimento 726 qua di sotto per favore, grazie mille, chiedo ho visto prima in giro un Lady Tekken, se può andarla a restare ci fa favore. Allora continuiamo con il premio simpatia rullo di zoccoli perché sono stufati i tamburi. Premio simpatia, l'hanno vinto tre persone. Quindi vogliamo sul palco Leon Scott, Jack e Soldato Umbrella! No, no, hanno saltato tutti i ragazzi, infatti i soldati che non saltano non si sono mai visti. Aspetta, vogliamo anche Benzo, ovviamente. Un applauso! Allora prendete la targa della nostra bella valletta. Allora, qualche foto dai fotografi. Ciao! Ragazzi, io mi sono trovato un coltello per disavostro, giusto? Ragazzi, un attimo. Allora, per prima cosa presentatevi e presentate anche i cosplay che interpretate. Prego, ragazzi, ciao di una che ti lavora. Noi siamo il gruppo residente a P4 del videogioco. Questo è il grande soldato dell'Ombrella, io sono Jack Krauser. Vi voglio fare un ringraziamento alle mie truccatrici, di cui una, se si avvicina un attimo capirete il perché. E' della mia grandissima amica gattissima, che quando ha ballato era un bellissimo ballo. Ma non, avvicina, avvicina di un attimo. Vabbè, è quella che ha fatto Edward Maniforbici, che, vedete, la mia cicatrice me l'ha fatta proprio lei, per decisa. Con la sua grandissima assistenza. Ragazzi, come cominciate la vostra fazione per il cosplay? La mia è iniziata tre anni fa facendo il primo Magros della Skull Peschio. E voi, ragazzi? Io ho iniziato quattro anni fa facendo Warang da Tekken 5, fatto abbastanza male, tra l'altro. Poi è andata sempre meglio, sto cercando di migliorare. Ragazzi, io il primo anno mi sono vestito da Pikachu, ho un cappello con le tue orecchie. Quindi, peggio di me, credo. Io ero il suo allenatore. Ci vorremmo far pagare il doppio a Robby. Ha iniziato circa cinque anni fa, con Altair, gli Assassin's Creed, le versioni nera. Fatto in due settimane, è un schifo, però è un bel risultato. Un applauso! Grazie ragazzi, voglio accumularvi. Grande ringraziamento a Benzio! Un applauso a Benzio! Fai un calcio! No! Ok, grazie mille. Allora...